Benvenuti a questa mattinata che apre questa giornata in cui festeggiamo la vicinanza dell'aeronautica militare al territorio e alla città di Ferrara e innanzitutto in apertura vorrei ringraziare gli organizzatori di questa giornata, in primis il comando per l'operazione aerea rappresentato dalla generale divisione aerea Giovanni Fantuzzi, vorrei ringraziare il comune di Ferrara che ospita non solo l'aeronautica militare da decenni ma che stamani ha fornito anche questa bellissima location per incontrarci e parlare di spazio, vorrei ringraziare anche l'università di Ferrara che non solo contribuisce con stand che vedete fuori nel salone mostrandovi alcuni di quegli argomenti che magari nel prossimo futuro potreste essere interessati e coinvolti a studiare. Quindi come vedete c'è tutta la comunità locale di Ferrara e la giornata è dedicata a voi per parlare di spazio, per parlare di tecnologia, per parlare di innovazione e per parlare soprattutto della passione per il volo. Allora nel ringraziare vorrei ulteriormente farvi riflettere su una cosa, lo spazio in Europa è nato con l'Italia, lo vedremo nel corso delle prossime slide e in Italia lo spazio è nato con l'aeronautica militare, per l'aeronautica militare lo spazio è una dimensione fisica nella quale ci proiettiamo, se voi leggete quelle tre parole lì sotto in latino virtute siderum tenus esplicitano e rappresentano tutta la passione dell'aeronautica militare per il volo, significano con coraggio verso le stelle, quindi questa naturale predisposizione ad esplorare sempre di più una nuova dimensione che è proprio quella spaziale. Ma l'aeronautica militare in realtà ha nei suoi compiti una serie di funzioni fondamentali, la prima e la più importante che viene attribuita all'aeronautica militare è la protezione dei cieli, ebbene qui a Ferrara voi avete l'elemento fondamentale che garantisce non solo la protezione dei cieli di Ferrara ma la protezione di tutti i cieli nazionali, ed è proprio un applauso che vi chiedo agli uomini comandati dal generale Fantuzzi che quotidianamente proteggono i nostri cieli con un lavoro silenzioso, quotidiano, attento, fatto di impegno da uomini e donne dell'aeronautica militare che non solo guardano allo spazio con passione ma non dimenticano mai quella che è la loro missione fondamentale. E allora il tema di oggi in realtà parla di spazio. Bene, chi sono io? Io sono un tenente colonnello dell'aeronautica militare, sono ingegnere, ingegnere spaziale, circa 20-25 anni fa ero più o meno un ragazzo come voi che studiava in un liceo scientifico di Roma con la passione per il volo e con la passione per lo spazio. Ad un certo punto è passato ad un treno. Questo treno per me si chiamava Accademia Aeronautica giù a Pozzuoli dove sono entrato e dove per 5 anni ho studiato ingegneria presso l'Università Federico II di Napoli. In Accademia mi sono formato come ingegnere ma mi sono formato anche come ufficiale dell'aeronautica militare e mi sono formato anche forse e soprattutto come persona. Entriamo a 18 anni, usciamo che abbiamo più o meno 23-24 anni e l'aeronautica militare poi ci impiega nei reparti operativi in varie specialità. Ci sono in Accademia ingegneri, ci sono piloti, ci sono naviganti, medici, avvocati. Bene, una serie di professionalità che concorrono quotidianamente a quei compiti, a quelle missioni che caratterizzano l'operato dell'aeronautica. Bene, ad un certo punto l'opportunità di avviare questa iniziativa, questa attività, questo addestramento come cosmonauta nasce completamente all'interno dell'aeronautica militare, proprio come evoluzione di questo percorso che vede l'aeronautica proiettarsi anche nello spazio. Quella che vedete qui è una foto che abbiamo fatto lo scorso settembre al 55esimo anniversario della pattuglia acrobatica nazionale e qui vedete tutti gli astronauti italiani, dal primo al centro, Franco Malerba, che volò nel 92, all'ultimo che sono in ordine cronologico io in addestramento che non ho ancora volato. Quindi qui vedete la squadra degli otto astronauti e cosmonauti italiani. Allora iniziamo dalle origini. Oggi parliamo di volo, non possiamo parlare di volo nello spazio se prima non parliamo di volo aeronautico e non possiamo parlare e capire l'evoluzione del volo aeronautico se non capiamo come questa passione, questa predisposizione per il volo è nata in realtà nella civiltà umana. Bene, è qualcosa di intrinseco, di innato nel nostro istinto di esplorazione. Quella che vedete qui è la galassia di Andromeda ed è ad una ragguardevole distanza di 2,5 milioni di anni luce. Il che significa che se voi aveste la capacità di volare all'incredibile velocità di 300.000 km al secondo impieghereste 2,5 milioni di anni per raggiungerla. Ebbene è l'oggetto visibile ad occhio nudo più distante che sia osservabile nel cielo e nella volta celeste. Se in una delle notti di autunno guardate verso nord e puntate alla costellazione di Cassiopea, la riconoscete perché è una sorta di W o di M capovolta, e andate ad allineare la stella alfa della costellazione di Cassiopea con Andromeda che è leggermente più in basso, ebbene se non c'è eccessivo inquinamento luminoso potreste osservare questa debole nebbiolina. Ebbene questa è la galassia di Andromeda che già nel 900 d.C. i Persiani, del 900 a.C., i Persiani, menzionavano nelle loro osservazioni. Quindi come vedete l'osservazione del cielo per l'uomo è stata da sempre una necessità. Prevedere le fasi lunari, prevedere il comportamento e la possibilità di coltivazioni fasate con i cicli lunari, le piramidi stesse sono una sorta di calendario astronomico. Stonehenge è molto probabilmente una sorta di orologio antichissimo. Nelle stesse grotte di Lascaux gli scienziati ravvedono nei vari dipinti rupestri alcune stelle che sembrano ricordare le costellazioni dello scorpione e del toro. Quindi l'osservazione del cielo è stata da sempre un istinto naturale dell'uomo e una necessità per la sopravvivenza. Ci sono voluti secoli prima che l'uomo, evolvendo nella sua conoscenza delle arti, dell'ingegneria, potesse iniziare a capire come questa passione per il volo si potesse trasformare in qualcosa di concreto. Arriviamo a Leonardo da Vinci nel XV secolo che inizia a disegnare le prime strutture portanti, le prime forme di ali per consentire all'uomo di volare. E ancora più recentemente il primo volo fu dei fratelli Mongolfier. Il primo volo sostentato attraverso aria calda fu nel 1782. Nel 1783 questi due fratelli che per vivere, noterete questa combinazione, due fratelli Mongolfier che ricorreranno rapidamente con un'altra coppia di fratelli estremamente famosi. Bene, narra la leggenda che osservando come la carta che bruciava tendeva a volare con quest'aria calda, ebbero l'intuizione ed iniziarono a costruire le prime mongolfiere. Quindi il primo volo dell'uomo attraverso un mezzo più leggero dell'aria accade solamente nel 1783. Ricordate la forma delle ali di Leonardo da Vinci? Bene, questo è un personaggio estremamente particolare, si chiama Otto von Lilienthal e nel 1780-83 per diversi anni sperimenta, un po' come successivamente farà Alessandro Guidoni, i suoi strumenti per volare. Ne sperimenta così tanti ed è la prima forma di volo non sostentata da un mezzo più leggero dell'aria, come accade nelle mongolfiere, ma semplicemente garantito scoprendo e studiando le proprietà delle correnti ascensionali. Quindi un ulteriore passo in avanti che mette insieme la conoscenza dei fenomeni aerodinamici per consentire il volo. Sfortunato in una delle sue attività sperimentali cadde a causa di una raffica di vento che distrusse una parte della sua struttura e in quell'incidente morì. Come vedete il progresso, e ritornerà, il progresso del volo è un progresso fatto di impegno e anche di sacrificio. E qui arriviamo ad un passaggio storico, questo è l'inizio del volo. Qui siamo il 17 dicembre 1903, questo è il flyer, è il primo oggetto più pesante dell'area con un sistema propulsivo che riesce a spiccare il volo. Siamo nella Carolina del Nord, ancora una volta due fratelli, ebbene pochi metri, semplicemente 10 metri di un oggetto fatto di legna e tela che segnano definitivamente da parte dell'uomo la conquista della terza dimensione. Allora, voi vedrete che lo sviluppo del volo nello spazio e lo sviluppo del volo aeronautico sono andati e ancora oggi vanno insieme, in parallelo, scambiandosi nel corso degli anni tecnologie, esperienze, conoscenze operative. Quindi un connubio estremamente forte che vi riporta al concetto del perché per l'aeronautica militare è così importante anche seguire lo sviluppo del volo nello spazio. Qui siamo nel 1926, l'aeronautica è nata da pochissimo, voi siete in un territorio che è estremamente vicino alle origini dell'aeronautica militare, voi sapete che a Lugo di Romagna, qui a circa 60 km, nacque colui che è ritenuto uno dei principali fondatori dell'aeronautica, Francesco Baracca. Bene, siamo nel 1926, Umberto Nobile e l'aeronautica militare realizzano questo grande dirigibile, si chiamava il Norge, che conquista per la prima volta, sorvola il polo nord. Quindi gradualmente lo sviluppo della tecnologia del volo ci consente anche di ampliare le conoscenze del nostro mondo circostante. E in quegli anni, dal 35 al 43, l'Italia diventa, insieme all'aeronautica militare, uno dei paesi più avanzati nella conoscenza della tecnologia del volo. Quella che vedete qui è quella che oggi potremmo definire la NASA italiana, si trovava a pochi chilometri da Roma, a Guidonia, e qui fu fondato un centro che si chiamava Direzione Superiore Studi ed Esperienze, dove personaggi come Antonio Ferri, Luigi Broglio, Luigi Crocco, approfondiscono i primi studi sul comportamento delle strutture dell'aerodinamica ed elevate velocità. Dovremmo fare una conferenza apposta per approfondire le potenzialità e gli studi e i risultati ottenuti da questo centro, ma pensate semplicemente che una persona come Antonio Ferri, sconosciuto e più, divenne così bravo, così capace, così competente nella conoscenza dei fenomeni aerodinamici ed elevate velocità, che fu preso dagli americani dopo la seconda guerra mondiale, fu invitato a continuare i suoi studi negli Stati Uniti e contribuì alla realizzazione del programma Shadow. L'evoluzione del volo procede veramente a tappe rapidissime. Voi pensate, il primo volo, il Flyer, nel 1903, il primo volo supersonico, Mach 1, significa circa 1100 km orari nel 1947. Quindi in poco più di 40 anni la tecnologia è evoluta così tanto da riuscire a gestire fenomeni estremamente complessi come il volo supersonico. Da un punto di vista teorico il volo supersonico non era neanche possibile. I primi ingegneri, i primi studiosi non capivano come sarebbe stato possibile superare il problema dei disturbi che si generano quando raggiungiamo la velocità supersonica. Ebbene, molto rapidamente la tecnologia ha consentito di realizzare velivoli come il Bell X1 e quello che vedete qui è l'X15. Dal 59 al 68 è un velivolo. Possiamo dire che questo è il primo velivolo, il primo spazio plano, cioè il primo velivolo che decolla come un aeroplano e arriva nello spazio. Due voli nel 1963 raggiungono e superano la quota dei 100 km. Ancora, diciamo, fino al 2004 il record di velocità era mantenuto da questo velivolo che ha raggiunto Mach 7, cioè 7200 km orari. Quindi tutto questo studio ha consentito all'aeronautica militare americana e alla NASA di acquisire le conoscenze fondamentali poi per muovere i primi passi nell'esplorazione del volo spaziale. Quello che vedete qui non è un pilota qualunque ma si chiama Neil Armstrong. È colui che a distanza di pochi anni metterà per primo nella storia dell'umanità piede sulla Luna. E guardate quanto rapidamente evolve questo mezzo aeronadio. Questo è l'SR71, è un ricognitore strategico americano che dalla 66 all'89 vola. È stato sviluppato in quella che viene chiamata Area 51, quindi un centro sperimentale americano ed è talmente complicato, normalmente viaggiava Mach 3, che per compensarne le deformazioni dovute al riscaldamento aerodinamico il rivestimento della struttura era addirittura in titanio. Quindi un velivolo estremamente complesso che consentirà l'introduzione di tutta una serie di tecnologie utili anche all'aviazione civile. Tutto quello che in quegli anni fu sviluppato per l'aviazione militare divenne poi premessa per lo sviluppo dell'aviazione civile. Quindi come vedete il mondo aeronautico, militare, civile, il mondo spaziale hanno da sempre, fin dalle origini, strettamente parlato tra di loro. Hanno da sempre scambiato informazioni, conoscenze, tecnologie, persone, professionalità. E ad un certo punto, come vedete, la tendenza è sempre quella a volare più veloci, più in alto, fino ad arrivare nello spazio. E la domanda è dove inizia lo spazio? Lo spazio inizia fondamentalmente, anzi da un punto di vista strettamente formale, a 100 km. Si chiama linea di von Kármán, è questo confine convenzionalmente stabilito a livello internazionale dove facciamo iniziare lo spazio. In realtà però lo spazio non ha un inizio vero e proprio. Se voi vedete questa immagine, con il buio della Terra sotto, il buio dello spazio sopra e il Sole che nasce all'orizzonte, quella piccola strisciolina azzurra, quella piccola nebbiolina che rappresenta l'atmosfera, è tutto quello che ci separa da Terra per arrivare nello spazio. Una distanza a 200 km che gli astronauti a bordo dei propri lanciatori percorrono rapidamente in poco più di 8 minuti. E l'era spaziale quando inizia? Facciamo un piccolo passo indietro. Questa persona che vedete qui in basso a sinistra si chiama Konstantin Zolkovsky. Ritorniamo al 1903, ritorniamo allo stesso anno in cui i fratelli Wright fecero volare per la prima volta il flyer, questo maestrino di quarta elementare in un paesino sperduto della Russia per la prima volta teorizza la possibilità di avere delle piattaforme orbitanti attorno alla Terra. E ancor più, guardate lì, visionario, completamente senza nessun motivo per immaginarlo, ma in qualche modo ipotizza che l'uomo avrebbe potuto successivamente negli anni addirittura fare delle passeggiate extraveicolari. Se vedete lì c'è un omino che indossa una tuta che ad un certo punto esce dalla propria navetta per andare nello spazio esterno. Quindi l'era spaziale inizia qui, 1903. Il mondo aeronautico e il mondo dello spazio, il volo aeronautico e il volo spaziale iniziano insieme la loro avventura. Rapidamente, anche così come è rapidamente evoluto il mezzo aeronautico, anche il mezzo spaziale evolve in maniera estremamente rapida. Il primo satellite messo in orbita, lo Sputnik 1, nel 1957, 4 ottobre del 57, i russi, i sovietici, battono gli americani in questa competizione che era la corsa allo spazio. Questo ovviamente in qualche modo genera una reazione da parte degli americani e vedremo che poi Kennedy formulerà un discorso estremamente importante a distanza di pochi anni. Ma vedremo, cosa molto interessante, che i russi nel corso degli anni hanno battuto e stabilito quasi tutti i primati nell'esplorazione spaziale. Il primo lo Sputnik, il secondo primato è il primo uomo nello spazio. Yuri Gagarin, 12 aprile 1961, diventa il primo uomo a bordo della Vastok ad entrare in orbita. 90 minuti, un giro attorno alla Terra che definitivamente segna la conquista da parte dell'uomo di poter volare nello spazio. E ancora un ulteriore primato, nel 1963, Alexei Leonov effettua la prima passeggiata extraveicolare e se ricordate quell'immagine disegnata da Tsiolkowski, due slide precedenti, è esattamente lo stesso sistema. Come vedete è un tubo, una camera di compensazione attraverso la quale poter arrivare nello spazio esterno. Quello che vedete è un autoritratto, cioè il disegno che lo stesso Alexei Leonov più avanti negli anni, intorno al 1990, disegna riproducendo se stesso che effettua questa prima passeggiata extraveicolare. E nel 1962 Kennedy pronuncia questo discorso alla Rice University dicendo che entro la fine del decennio, quindi entro la fine degli anni 60, gli americani avrebbero portato il primo equipaggio umano sulla Luna. E questo accade. Accade il 19 luglio 1969. Tre uomini, Armstrong, Collins, Aldrin, effettano un giro attorno alla Luna, due di loro atterrano sulla superficie lunare. Provate a pensare quanto rapidamente è evoluta una tecnologia in grado di portare da un iniziale giro di un uomo, 1961, 90 minuti attorno alla Terra, tre persone in volo attorno alla Luna, due portate sulla superficie della Luna e poi l'intero equipaggio a terra. Tutto nell'arco di soli otto anni. Uno sforzo politico, economico, tecnologico, notevolissimo, che gli americani sotto la spinta di questa competizione con la Russia mettono in campo. I russi non riescono a raggiungere la Luna, sviluppano la Soyuz, che poi vedremo che era il sistema previsto per portare i cosmonauti sulla Luna, ma quello che accade è che nel 1967 il loro capoprogramma, che si chiamava Coriolov, muore. Inevitabilmente gli americani acquisiscono un vantaggio competitivo e per primi raggiungono la superficie lunare. L'Italia in quegli anni è anch'essa in qualche modo protagonista. Quello che vedete qui è Luigi Broglio, generale dell'aeronautica militare, ingegnere, che riuscì a stabilire un accordo di collaborazione bilaterale con gli Stati Uniti. Grazie al Centro Nazionale delle Ricerche all'aeronautica militare, insieme alla NASA, stabiliscono un programma di collaborazione per consentire all'Italia di lanciare un satellite nello spazio. È il 14 dicembre 1964, da Wallops Island, un team integrato dell'aeronautica e del Centro Nazionale delle Ricerche, lancia il San Marco 1. L'Italia diventa il terzo paese al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, a lanciare un proprio satellite. È il primo paese in Europa ad acquisire una capacità autonoma di lancio e di accesso allo spazio. Non contenti del primato stabilito, l'Italia crea per la prima volta una stazione di lancio equatoriale installata sul mare, quindi non più su terraferma, ma una piattaforma petrolifera riadattata per lanciare lanciatori e satelliti nello spazio. Da qui ancora questo team tra l'aeronautica militare e il Centro Nazionale delle Ricerche, fino al 1988 continuerà a lanciare satelliti, sia italiani sia di altri paesi. Ancora oggi, se doveste andare a Malindi, in Kenya, vedreste le piattaforme che sono lì, a largo, come un museo a cielo aperto. Una volta che il programma di conquista della Luna vede gli americani prevalere, le strade dello sviluppo del volo spaziale sostanzialmente si differenzia. Il percorso russo e quello americano prendono due strade differenti. I russi iniziano a studiare il comportamento dell'organismo umano nelle basse quote. Nelle orbite basse, parliamo intorno a 400-500 km, iniziano a realizzare le prime piattaforme orbitanti permanentemente abitate, passano attraverso la Salyut e nel 1986 lanciano la Mirra. Dall'86 al 91 questa è la stazione dove furono stabiliti tutti i primati di lunga permanenza in orbita. Il record ancora oggi imbattuto di 468 giorni continuamente in orbita fu stabilito da Poliakov qui a bordo della Mirra. Attraverso queste esperienze russi hanno acquisito tutta quella capacità e quelle conoscenze che consentiranno poi all'inizio degli anni 2000 di realizzare quella che vedremo che è la stazione spaziale internazionale. Gli americani invece vanno in un'altra direzione. Gli americani realizzano il primo sistema di trasporto che oggi definiremmo aerospaziale, cioè un sistema estremamente complesso che si chiamava Space Shuttle, Space Transportation System, che decollava come un lanciatore, entrava in orbita come una piattaforma e riatterrava come un aeroplano. Il primo volo dello Shuttle avviene il 12 aprile 1981. Quindi se fate mente locale, dal primo volo di Yuri Gagarin 12 aprile 1961 al volo dello Shuttle, l'STS-1, il Columbia, solamente 20 anni di progresso. Quindi una corsa estremamente rapida nell'evoluzione tecnologica. Di questo che è ancora oggi un sistema estremamente complesso. Era composto da 5 computer in parallelo, che gestivano 400.000 parametri. Il sistema di propulsione più potente mai realizzato, 2 milioni di newton di spinta. Poteva entrare in orbita con un equipaggio di 7 persone e trasportare nella sua cargo bay circa 10 tonnellate di carico. Quindi qui lo vedete che faceva una manovra. Poteva portare in orbita satelliti, poteva portare, e lo ha fatto in orbita, i pezzi che hanno poi realizzato la stazione spaziale internazionale. Ebbene, come vi dicevo, un sistema estremamente interessante perché poi atterrava come un velivolo. Vedremo che questo concetto ancora oggi, che lo Shuttle è andato in dismissione, in realtà rappresenta uno sguardo verso il futuro. In realtà rappresenta un sistema che ci parla di come potranno evolvere gli aeroplani nei prossimi decenni. Allora, qui dovrebbe esserci collegato il video del decollo dello Shuttle per darvi la percezione della potenza che veniva sviluppata da questo decollo. Vedrete, il decollo avvenivano dal Kennedy Space Center, 135 missioni, dal 1981 fino al 2011, l'ultima missione alla 135. di Circe, sempre dei mieiosinggiberg, sulle utile. Itići, che un cavallisone, tra le pale, spazionate dall'armale, Huromie sia, la connello줘, è sempre sempre delle quelle, che iiteni facci nostri, darare una scazione che sviluppata da questa Heath atravese, Il decollo dello shuttle durava 8 minuti e 36 secondi ed era sostanzialmente suddiviso in due fasi. La prima fase, durante la quale l'avete vista, operavano anche due booster laterali che davano un supporto ulteriore alla spinta. Voi immaginate di dover portare un oggetto di centinaia di tonnellate alla velocità di 28.000 km orari ad un'orbita di inserimento di 200 km. Quindi la potenza di cui avete bisogno è enorme e dovete immaginare il decollo di uno shuttle o di un qualunque lanciatore come un'esplosione controllata. Lì c'è ossigeno in pressione, liquido, idrogeno in pressione, liquido che reagiscono come una bomba ma questa esplosione viene controllata e attraverso gli ogelli di scarico generano una spinta che accelera questo oggetto fino a 200 km. Bene, a ricordare che il volo nello spazio non è una cosa semplice e non è un'attività isente da rischio, lo shuttle in 135 missioni ha collezionato due incidenti estremamente gravi. Il primo, il Challenger nel 1986, un equipaggio di 7 persone esplode in fase di decollo. Quei due booster laterali rappresentavano l'elemento di criticità di questo sistema. Quello che accadeva è che durante i primi 2 minuti e 40 secondi di funzionamento qualunque cosa fosse successa non c'era una procedura di emergenza. Quegli erano dei booster a propellente solido il che significa che una volta che sono e che erano accesi non potevano essere spenti. Quindi dovevano funzionare fin tanto che il propellente solido non era completamente consumato. E l'incidente della Challenger accade proprio a 1 minuto e 20 secondi dal decollo. A causa di una fuoriuscita di combustibile incandescente da uno dei due booster laterali che incendia completamente l'external tank dove è contenuto l'ossigeno e l'idrogeno in pressione. Quindi come vedete un primo incidente, il secondo in fase di rientro. Il Columbia, il primo febbraio del 2003, in fase di rientro si desintegra. Aveva subito un danno su una semiala sinistra in fase di decollo e questo danno non osservato correttamente, non previsto, non compresa come situazione critica di volo, genera in fase di rientro, voi immaginate che lo shuttle quando rientrava raggiungeva temperature di circa 1500 gradi. Il flusso del plasma ipersonico attorno al velivolo produceva delle accelerazioni fino a 2-3 g con un riscaldamento della struttura fino a 1500 gradi. Bene, questa leggera fessurazione sulla semiala produce questo inserimento del plasma all'interno della struttura, ne compromette completamente l'integrità e quello che accade è che il velivolo si desintegra in fase di rientro. Il volo nello spazio è un volo che se confrontato con il volo aeronautico ancora oggi è di ordine di grandezza più pericoloso. Quando voi andate in volo normalmente c'è un dato statistico che viene assunto a riferimento, cioè un incidente ogni milione di ore di volo. Nel caso dello shuttle ci sono stati due incidenti macroscopici in 130 missioni. Quindi come vedete una statistica che ancora oggi rende la tecnologia necessaria per la sicurezza del volo degli oggetti spaziali una tecnologia sì matura, sì affidabile, ma ancora con ampi margini di miglioramento. Ancora una volta capite perché l'aeronautica è interessata, perché la sicurezza del volo è una competenza attribuita anche all'aeronautica militare. I russi invece che sistemi utilizzano? I russi utilizzano un sistema completamente diverso. L'avete visto forse nel filmato che all'inizio era proiettato. Bene, loro utilizzano un lanciatore che si chiama Soyuz, porta lo stesso nome della capsula. È un sistema molto particolare, anche qui le differenze tra il mondo americano e il mondo russo sorprendono, sono notevoli. Nel mondo americano lo shuttle veniva trasportato alla velocità di pochi centimetri al secondo da una sorta di nastro trasportatore. Nessuno poteva avvicinarsi allo shuttle se non a distanza di 4-5 miglia una volta che era in posizione di lancio. Quello che accade nel mondo russo è completamente diverso. Vedete, il lanciatore viene trasportato lungo delle rotaie e le persone sono lì ad accompagnarlo in questo breve viaggio che le porta sul launchpad. Quando l'equipaggio arriva per salire a bordo della Soyuz è accompagnato non solo dal team di supporto ma anche da parenti, amici, autorità. Quindi un contatto, una tecnologia completamente diversa da quella americana. Il decollo, come lo vedete, è abbastanza tradizionale e lì vedete dove è l'equipaggio, dove è la Soyuz. Mentre lo shuttle era completamente all'esterno, la Soyuz è all'interno di quello che viene chiamato fairing, cioè in questo involucro di metallo che lo protegge fin tanto che l'atmosfera non diventa sufficientemente rarefatta, intorno a 60 km, per poter aprire il fairing e lasciare la Soyuz all'aperto. Anche qui il decollo dura circa 8 minuti e 30 secondi, alla fine di questa incredibile accelerazione la Soyuz entra in orbita. Una cosa molto particolare è che questo sistema rendeva la Soyuz estremamente sicura. Mentre per lo shuttle c'era un periodo, se volete, di estrema criticità, fino alla separazione con i booster laterali, la Soyuz invece ha un sistema di rapida separazione della capsula dal resto del lanciatore. Qualunque cosa accada, anche quando è a terra, ancora prima di decollare, quel sistema si può attivare e rapidamente separa l'equipaggio della Soyuz dal resto, dal destino del lanciatore. In questo caso le accelerazioni possono essere molto elevate, fino a raggiungere per periodi molto brevi intensità pari a 10-11 g. E questo è il veicolo, questa è la Soyuz, che è composta sostanzialmente da tre parti. Questo è attualmente l'unico sistema per arrivare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ed è composto dal modulo di comando, qui dentro ci sono gli astronauti, da un modulo di servizio, qui sono installati la maggior parte dei sistemi che consentono al veicolo di funzionare, e questa palla, questa sfera, è un volume aggiuntivo all'interno del quale portare esperimenti e all'interno del quale l'equipaggio trascorreva due giorni dal momento dell'inserimento in orbita fino al momento in cui arrivava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Dalla 2013 utilizziamo una procedura operativa più breve, si chiama docking in sei orbite, quindi più o meno in quattro ore si arriva a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E questo è dovuto all'incremento di precisione dell'inserimento in orbita del lanciatore e risparmia all'equipaggio due giorni di volo attorno alla Terra in un volume molto stretto. Qui in questa sfera tre persone hanno a disposizione solamente sette metri cubi, qui dentro tre persone hanno a disposizione tre metri cubi. Quindi tempo trascorso in condizioni estremamente impegnative e critiche. Questa è la plancia di comando della Soyuz. Questo è tutto quello che gli astronauti e cosmonauti durante il loro addestramento devono imparare ad utilizzare, a capire, a comprendere, perché è quello che consente all'equipaggio di parlare con la macchina. Quindi sostanzialmente al centro avete la posizione del comandante, a sinistra l'ingegnere di bordo e a destra l'ingegnere di bordo numero due. Ma in realtà è quello che storicamente si chiamava cosmonaut research. Cioè era lo scienziato che veniva portato in orbita per effettuare attività di sperimentazione. Quindi i primi due erano quelli deputati al controllo della macchina mentre era in volo. L'altro, infatti come vedete, la sua postazione è molto più semplice. Normalmente è quello a cui diciamo di rimanere seduto, legato, accendere i ventilatori e non dar fastidio. Ma le operazioni di controllo invece del sistema vengono gestite dal comandante e dall'ingegnere di bordo a sinistra. Attualmente la Soyuz svolge anche una funzione fondamentale, che è quella di scialuppa di salvataggio. A bordo della stazione spaziale internazionale sono residenti permanentemente sei persone. In caso di avaria ovviamente bisogna lasciare la stazione. Questo è garantito da due Soyuz che sono permanentemente attaccate a bordo della stazione spaziale internazionale. Come vedete l'atterraggio di una Soyuz è tutt'altro che morbido. Mentre uno shuttle atterrava su un aeroporto, la Soyuz fa un'altra cosa. Entra in atmosfera con una struttura troncoconica, con quel modulo centrale, sostanzialmente un sasso che sprofonde l'atmosfera. Ad un certo punto si aprono dei paracaduti, questi paracaduti rallentano fino ad una velocità residua di 5-6 metri al secondo, a circa un secondo e mezzo dall'impatto a terra si attivano dei retrorazzi e la velocità è rallentata, ma vedete l'effetto che fa. Sono comunque tre tonnellate che atterrano alla velocità residua di 2,5 metri al secondo. Il presente del volo spaziale è questa, è la stazione spaziale internazionale. È attualmente la più grande infrastruttura che è mai stata realizzata dall'uomo e che orbita attorno alla Terra a 420 km di quota, su un piano inclinato rispetto all'equatore di 51 gradi, ed è sostanzialmente l'oggetto più visibile della volta celeste dopo il Sole e la Luna, quando vi passa sopra le teste. E la riconoscete per due motivi, uno perché è estremamente luminosa, molto più di qualunque altra stella, e due perché passa estremamente veloce, a circa 8 km al secondo. Qui sostanzialmente dal 2001 una collaborazione internazionale fatta da circa 30 paesi ha permanentemente degli astronauti a bordo a far cosa? In primis a fare attività di ricerca sperimentale. Quindi la stazione spaziale internazionale è un laboratorio, è il più grande laboratorio di attività di sperimentazione in microgravità che sia mai stato realizzato da questa cooperazione internazionale. Per far cosa? Quando andate nello spazio c'è un aspetto fondamentale che a Terra non riuscite a simulare, che è questa condizione di microgravità, cioè questa condizione di equilibrio della forza di attrazione terrestre con la componente centrifuga, che vi consente di studiare dei fenomeni in maniera assolutamente diversa da quello che accade a Terra. E questi esperimenti possono essere fatti sia all'interno sia all'esterno della stazione. Quindi immaginate un Lego molto complesso, con dei sistemi alcuni dei quali sono installati all'interno della stazione e altri che sono installati all'esterno, con delle attività di sperimentazione fatte all'interno ed altre attività fatte all'esterno attraverso delle particolari tute che si chiamano Orlanna, questa è quella russa, attraverso le quali l'equipaggio può rimanere all'esterno della stazione per 8-10 ore, per effettuare attività di manutenzione oppure, come vi dicevo, attività di sperimentazione. Gli esperimenti sono molteplici, sono estremamente diversi tra di loro, di alcuni ne parlerete anche oggi pomeriggio, e riguardano i settori più variegati della ricerca scientifica, dai materiali alla fisiologia umana, alla medicina, addirittura la possibilità di coltivare e capire il comportamento e la reazione di vegetali in orbita, anche nella prospettiva di missioni di lunga durata, alla possibilità di sperimentare una robotica cooperativa, quindi avere dei robot che possano supportare le attività degli equipaggi in previsione di missioni più lontane verso l'Una e Marte. E poi ovviamente anche l'osservazione dell'universo, che è una parte fondamentale in quanto a 400 km non abbiamo la schermatura dell'atmosfera terrestre. E infine una parte fondamentale è l'osservazione della terra, quella che vedete qui è la cosiddetta cupola, ed è stata realizzata dall'Italia, quindi una capacità tecnologica che ha da sempre contraddistinto l'Italia, l'industria nazionale, tanto che l'unico punto di osservazione permanente della stazione è appunto questa cupola, ed è stata realizzata dall'industria italiana. Da qui tutte quelle foto che spesso vedete su internet e da qui la possibilità di osservare anche per finalità scientifiche la terra sottostante. Poi la stazione di venta in realtà per sei mesi per l'equipaggio è una sorta di casa e il proprio equipaggio è una sorta di famiglia, quindi per sei mesi voi dovete convivere in un ambiente molto piccolo, immaginate di essere in una sorta di cilindro, in una scatoletta di tonno più o meno, dove per sei mesi trascorrete tutte le ore del giorno in compagnia di altre persone. E allora dovete sviluppare anche una tecnologia necessaria a supportare le vostre normali attività quotidiane. In primis ad esempio il bagno, come si fa ad andare in bagno nello spazio? Beh, qui il concetto è molto semplice e deve ovviare ad un problema fondamentale. Questa condizione di microgravità fa sì che le cose non cadano, quindi per spostarle le dovete in qualche modo sollecitare. Il concetto fondamentale è quella separazione, vengono separati i liquidi, i rifiuti organici, liquidi da quelli solidi. Gli uni vengono aspirati e raccolti in un contenitore, gli altri vengono raccolti in sacchetti e poi messi nel cestino della Soyuz. E ogni tanto, lo racconto, qualcuno sorride, qualcuno invece rimane un pochino più indignato rispetto alla fine che poi fanno questi rifiuti. Allora, voi pensate che la Stazione Spaziale Internazionale è molto grande, sono circa 100 metri per una dimensione e circa 85 per l'altra, però lo spazio, inteso come volume, è una risorsa estremamente preziosa. Tutto quello che non serve deve essere portato via, o riportato a terra se serve, o in qualche modo eliminato. Allora, inizialmente, durante le prime attività di lunga permanenza, i russi facevano una sorta di passeggiata extraveicolare. Aprivano un portellone e lasciavano il sacchetto della spazzatura fuori, più o meno. Poi si sono resi conto che dal punto di vista operativo era poco funzionale, perché rischiate che quello che lasciate fuori continui a ruotare insieme a voi e dopo un'orbita ve lo ritrovate praticamente in rotta di collisione. Allora, come si fa ad alleggerire la stazione di quello che non serve? Ci sono delle capsule senza equipaggio a bordo, che si chiamano Progress, si chiamano HTV, si chiamavano ATV prima, quello europeo, che vengono riempiti di questo materiale che poi in qualche modo deve essere eliminato. Bene, quando queste capsule si separano dalla stazione, entrano in atmosfera secondo un certo angolo e a causa di questo elevato angolo sostanzialmente bruciano in atmosfera. E quindi quando ad agosto voi osservate una stella cadente, sappiate che può essere un meteorite, ma può essere anche qualcosa che deriva dalla Stazione Spaziale Internazionale. Un'altra cosa fondamentale è ad esempio come ci si lava. Allora, quella che vedete qui è un'immagine ripresa dalla Saliutta. La Saliutta era la stazione spaziale sovietica prima della Mirra. A bordo della Saliutta avevano una doccia, avevano la possibilità di effettuare una doccia in un volume controllato dove quest'acqua veniva poi raccolta e se vedete il cosmonauta ha un boccaglio, quindi ha un sistema di ventilazione per evitare che l'acqua in sospensione potesse ostruire le vie aeree. Però l'osservazione empirica, cioè l'operazione di questo oggetto, misero in evidenza che se voi avete residui di umidità, avete una temperatura normalmente a bordo, la temperatura è tra i 25 e i 26-27 gradi e avete una scarsa ossigenazione, ovviamente non essendoci la gravità, l'aria per spostarsi deve essere spinta attraverso dei ventilatori. Nell'unione di questi tre fattori genera normalmente degli habitat idoni per colonie batteriche. Quindi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, gli americani hanno ritenuto di non installare una doccia, quindi come ci si lava a bordo della Stazione, sostanzialmente per sei mesi con dei fazzoletti umidificati, più o meno come i bambini. Una parte fondamentale poi è l'allenamento fisico. L'uomo non è fatto per andare nello spazio. Come vedrete, lo spazio, l'esposizione, le condizioni di microgravità generano sull'organismo umano un rapido deterioramento. Il sistema cardiovascolare si indebolisce, i muscoli si atrofizzano, le ossa perdono di densità eliminando, per un meccanismo ancora non ben noto, il calcio che normalmente viene assorbito attraverso l'alimentazione. Quindi quello che in altre parole succede è che voi invecchiate molto rapidamente. È un fenomeno che nella maggior parte dei casi, per una buona percentuale, è completamente riassorbibile, ma in ogni caso è un fenomeno estremamente significativo che può compromettere anche la salute dell'astronauta. Allora, per compensare questo, è fondamentale fare allenamento, sia durante l'addestramento, ma anche quando siete a bordo. Due ore al giorno di allenamento fisico, come vedete, sia di tipo aerobico, corsa, ciclette, sia di tipo anaerobico, quindi muscolare, per poter sollecitare la vostra struttura. Il tutto costantemente come se foste sul grande fratello. Quindi in realtà l'equipaggio a bordo fatto da sei persone è semplicemente la punta di un iceberg molto più larga, dove concorrono tecnici, scienziati, medici, psicologi, che supportano quotidianamente H24, sette giorni su sette, 365 giorni l'anno, l'equipaggio che è in volo. Quindi la stazione non potrebbe funzionare e l'equipaggio non potrebbe operare se in realtà non ci fosse a terra un team di supporto a seguirli costantemente. Prima di arrivare a bordo della stazione dovete poi addestrarvi. L'addestramento dura anni, è estremamente impegnativo, ma altrettanto interessante, ed è un percorso graduale di avvicinamento a tutte quelle capacità, a tutte quelle competenze che vi consentono poi di andare in volo. In primis ovviamente dovete studiare, come avete visto dalla Soyuz, come se voi doveste imparare a volare su un aeroplano. Come funziona? Come potete farlo? Contrariamente a quello che accade nel mondo aeronautico, dove dopo aver fatto lezione potete andare in volo, per il volo nello spazio tutto questo diventa molto più complicato. Quindi il mezzo principale per consolidare e preparare gli equipaggi sono i simulatori. L'allenamento fisico è un'altra parte fondamentale durante tutto il vostro percorso di allenamento, proprio per creare quelle condizioni e quella forma che vi consentono al meglio poi di affrontare quei periodi di lunghi mesi in condizioni di microgravità. Poi dovete fare una serie di attività particolarmente interessanti. A terra si fa fatica a simulare le condizioni di microgravità, queste condizioni di assenza di gravità. Allora ci sono sostanzialmente due modi per farlo. Il primo modo sono i cosiddetti voli a 0G, o voli parabolici. Quindi quello che accade è che viene preso un aeroplano molto grande, viene portato in un'area di operazioni, ad un certo punto viene tirato su con il muso e lasciato letteralmente cadere per 20-30 secondi. In questi 30 secondi di caduta libera, quello che simulate sono delle condizioni di microgravità. Quindi voi potete sperimentare questa particolare condizione fisica capendo come reagisce il vostro corpo, capendo i disturbi sensoriali del vostro organismo, quindi il disordine del sistema vestibolare, in qualche modo allenandovi e preparandovi a quella che è poi l'esperienza reale quando andate nello spazio per la prima volta. La Soyuz è un sistema particolare, contrariamente dallo sciat, lo sciat aveva bisogno di una pista d'atterraggio, quindi comunque in un aeroporto che in qualche modo era noto. In linea di principio la Soyuz può atterrare ovunque. In caso di emergenza potete attivare un programma di rapido rientro e a quel punto in un ambiente qualunque, compreso tra 51 gradi nord e meno 51 gradi sud, voi potreste atterrare, per cui siete addestrati a sopravvivere per almeno tre giorni in diversi scenari ambientali. Il primo ovviamente è quello dei climi freddi e a Star City è estremamente semplice, voi siete più o meno intorno a dicembre, gennaio o febbraio, la temperatura media è intorno a meno 20, meno 30, quindi quello che fate è piantate la vostra tenda, tutto il vostro kit di sopravvivenza, all'esterno del giardino di Star City e lì con il vostro equipaggio fate il vostro addestramento per circa tre giorni. Considerando che la superficie della terra, come sapete, è per la maggior parte ricoperta da oceani, la probabilità poi di finire in acqua è decisamente più alta della probabilità di finire su terra, quindi le condizioni di addestramento al cosiddetto ammaraggio diventano fondamentali. Vi mettono dentro la capsula, tre metri cubi, tre persone, con la socola addosso e a quel punto voi siete lasciati per 4-5 ore lì dentro per potervi cambiare, sperimentare tutte le procedure e ad un certo punto, qualora necessario, uscire fuori e rimanere per altre ore in acqua cercando di sopravvivere con il vostro equipaggio in attesa che un SAR, Search and Rescue dell'aeronautica militare, in questo caso c'è un accordo internazionale tra diversi paesi, finalizzato al recupero degli equipaggi che rientrano dallo spazio, vi porti in salvo. Un'altra attività particolare è quella dell'attività extraveicolare, quindi se voi dovete andare all'esterno della stazione vi dovete addestrare, questo accade sia utilizzando i sistemi reali, quindi qui vedete la vera Orlan con il pannello che fisicamente si trova a bordo della stazione e quindi i cosmonauti si addestrano in questa simulazione detta secco, quindi imparate le procedure, imparate il funzionamento dei sistemi, ma in questo caso non riuscite a sperimentare la sensazione fisica. La sensazione fisica avviene in piscina, quindi vi mettono all'interno di alcune tute modificate opportunamente per operare sott'acqua, sfruttando il principio della spinta di Archimede vi creano una condizione di neutro, quindi di bilanciamento e voi rimanete all'esterno, prima all'interno e poi all'esterno di pezzi della stazione che vengono inseriti in questa piscina e sperimentate, imparate, quelle che sono le procedure di sicurezza per muoversi all'esterno della stazione. Da una parte la condizione di microgravità, dall'altra parte la condizione esattamente opposta. Quando rientrate a terra, normalmente prendete delle accelerazioni. Queste accelerazioni, come vi dicevo, sulla Soyuz possono essere molto più impegnative che non sullo shuttle. Andate da un profilo di rientro di circa 4-5G fino, potenzialmente in caso di rientro non nominale, ad accelerazioni che raggiungono gli 8-9-10G. Quindi queste sensazioni le dovete sperimentare, cosa che normalmente nel volo aeronautico viene fatto quando siete a bordo di caccia, in questo caso viene simulato all'interno di centrifughe. Vi mettono in questa centrifuga che comincia a girare e vi produce quella che è la spinta caratteristica del rientro. Alla fine fate un esame, in realtà fate continuamente esami. In realtà l'addestramento è un esame continuo fino al giorno del lancio. Continuamente siete sotto osservazione, continuamente ripetete le vostre procedure, prima da soli, poi all'interno di un equipaggio, poi tutte le attività scientifiche e operative che dovete fare a bordo della stazione. e quindi per gli astronauti vale assolutamente il detto che gli esami non finiscono mai. E poi arriva il giorno del decollo e qui vi faccio vedere, confrontandolo con quello che è il decollo dello shuttle, il decollo di una Soyuz. T-minus 15 secondi e conto. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, liftoff of the Soyuz TMA 05M carrying Sonny Williams, Uriel Malenchenko and Aki Koshide on a two day journey to the International Space Station. All of their launcher parameters are nominal. Senti delle comunicazioni tra l'equipaggio a bordo e il Mission Control Center a terra. A breve vedrete l'equipaggio all'interno della capsula. Guardate la posizione che mantiene l'equipaggio quindi è estremamente scomoda con le ginocchia che arrivano quasi al petto. Come vedete l'equipaggio indossa la socola chiusa che significa in caso di depressurizzazione hanno un sistema ausiliario di emergenza pronto a supportarli. Avete visto quella bambolina che fluttuava e in realtà quello è lo stimolo visivo che dà all'equipaggio la prima percezione di essere entrati in orbita. Ci sono due segnali che dicono all'equipaggio che in qualche modo sono entrati in orbita. Il primo è il rumore. Il terzo stadio smette di spingere e quindi voi non sentite più il rumore della spinta. Ovviamente potrebbe essere uno spegnimento anticipato. L'altro segnale che vi dice che tutta la spinta è stata fornita e voi siete in orbita è che questa bambolina comincia a fluttuare come se fosse in assenza di gravità. L'equipaggio è seduto, legato in maniera estremamente forte al seggiolino per cui fisicamente non si rende conto di essere arrivato in queste condizioni di mitogravità. Il primo stimolo visivo viene dato proprio da quell'oggetto che normalmente per tradizione viene donato all'equipaggio da uno dei membri della famiglia di uno dell'equipaggio. Quindi abbiamo fatto questa abbastanza veloce carrellata dell'evoluzione del volo, dal volo aeronautico addirittura ancora prima da quello che era l'attitudine dell'essere umano verso lo spazio al volo aeronautico che è diventato gradualmente volo spaziale che è diventato oggi un'attività quasi di routine quotidiana. Avere la stazione spaziale a 400 km con astronauti che ogni sei mesi vanno e tornano dalla stazione è diventata quasi una cosa che non fa più notizia. Da una parte questo vi dà percezione di una cosa fondamentale lo spazio è diventato una dimensione quotidiana normalmente dallo spazio vi arrivano tutta una serie di servizi fondamentali non solo per le istituzioni come l'aeronautica militare che dallo spazio riceve i servizi per le proprie missioni ma anche per voi basta che voi accendiate uno smartphone una vostra applicazione di geolocalizzazione è basata su sensori GPS. Bene, quindi lo spazio è diventato qualcosa di quotidiano. Quale potrebbe essere il futuro? Allora il futuro è sicuramente da una parte ancora la stazione spaziale internazionale che rimarrà fino al 2024 se non addirittura al 2028. 2028 significa 30 anni di attività operativa. La precedente e più longeva stazione era la Mirra dal 1986 al 2001. La stazione raggiungerà 30 anni qualora sia mantenuta in attività di operazione fino al 2028. Quindi un laboratorio che consentirà nei prossimi anni di ulteriormente approfondire le tematiche di sperimentazione e la stessa stazione diventerà a sua volta una piattaforma per sperimentare nuove soluzioni operative. Quello che vedete qui è un nuovo modulo che è stato, si dice in termini tecnico, deployato, quindi installato e portato in configurazione operativa circa quattro giorni fa. È stato realizzato da una società che si chiama Bigelow è sostanzialmente un inflatable structure cioè un pallone che ad un certo punto si gonfia raggiungendo la giusta rigidezza strutturale e consente di ampliare lo spazio utile a bordo della stazione con un vantaggio notevole. Lo trasportate ovviamente sgonfio quindi raccoglie e ingombra sicuramente meno e consente quindi una maggiore facilità di trasporto. Il futuro passa anche per i nuovi sistemi di accesso allo spazio. Quelli che vedete qui sono i sistemi che nei prossimi anni consentiranno agli americani di ritornare ad essere completamente autonomi ed indipendenti nel volo spaziale. Dal 2011 fino a probabilmente del 2018 o comunque fino ai primi voli di questi sistemi gli americani sono stati costretti per portare i loro astronauti a bordo della stazione spaziale internazionale a volare con i russi. E se vi ricordate la storia di qualche decennio fa beh questo qui per gli americani ha significato decisamente molto. I prossimi sistemi sono sostanzialmente due capsule che le vedete qui. Questa in alto a sinistra si chiama CST-100 sviluppata dalla Boeing. Quella in basso si chiama Dragon. È sviluppato da una società che si chiama SpaceX e dimostra come lo spazio sta diventando anche opportunità di investimento per i privati. Fino a qualche anno fa nello spazio andavano le agenzie spaziali nazionali la NASA, Roscosmos, l'ASI, l'ESA quindi richiedevano un livello di investimento estremamente elevato che non era sostenibile da realtà private. Quello che sta accadendo nel mondo americano è una completa trasformazione di questo paradigma. I privati stanno investendo ovviamente con il supporto governativo che ha una competenza dovuta a decenni di operazioni senza le quali i sistemi così complessi non potrebbero essere sviluppati ma si stanno aprendo opportunità commerciali per uno spettro, per una platea di possibili utenti molto più ampia. Il sistema che è decisamente più interessante è il Dream Chaser che è una sorta di piccolo shuttle. È decisamente più piccola perché trasporta solamente equipaggio non trasporta cargo, non ha questa funzione che aveva lo shuttle di portare dei carichi estremamente grandi come quelli che erano installati nella Cargo Bay ma è comunque un lifting body quindi ha un comportamento molto più simile a quello che aveva lo shuttle. Il futuro parlerà anche altre lingue. Finora ha parlato americano, ha parlato russo nel futuro parlerà cinese. Dal 2004 i cinesi hanno avviato con successo e con grande determinazione il loro programma di esplorazione umana dello spazio. Hanno realizzato la prima stazione spaziale la Tiangong, siamo alla Tiangong 2 hanno realizzato un vettore di lancio, il Long March hanno realizzato la loro navetta, la Sheng Tzu vascello divino. Come vedete, se ricordate la Sokol che vi ho mostrato prima questa qui è una copia della Sokol russa. Quindi tra i cinesi e gli americani probabilmente per motivi anche di cooperazione e probabilmente perché i cinesi copiano bene la molta della loro tecnologia è tecnologia che deriva dal mondo russo ed ex sovietico. Un paese estremamente determinato che ha dichiarato di portare i primi astronauti attorno alla Luna a partire dal 2020 vedremo se nei prossimi anni questa determinazione porterà ad una collaborazione internazionale allargata includendo quindi non solo i paesi occidentali e la Russia ma anche la Cina oppure se magari rivivremo per qualche anno quella competizione tra mondo americano e mondo cinese per la conquista dello spazio. Il futuro parla anche di un sistema di trasporto aeronautico completamente innovativo. Quello che vedete qui era il Concorde che ha operato fino al 2003 volando a velocità supersonica volava a Mach 2 un velivolo in grado di trasportare nel giro di due ore passeggeri da Londra a New York quindi un concetto di trasporto aeronautico teso ad avvicinare punti molto distanti tra di loro sul pianeta Terra. È stato ritirato perché è estremamente costoso perché questa tecnologia aeronautica che quasi approssima volando più alto e volando più veloce a quelle che sono le fenomenologie del volo spaziale era per la tecnologia del tempo non ancora sufficientemente matura ma il futuro si avvicina rapidamente quella che vedete qui è una fotografia di presa dei manuali dello shuttle lo shuttle prevedeva la possibilità di decollare dal Kennedy e in caso si chiamava di contingency cioè di emergenza dopo aver separato quei due booster laterali di cui vi ricordate vi ho fatto scenno poteva se non in grado di raggiungere una sufficiente velocità orbitale rientrare secondo un profilo di volo detto suborbitale quindi approssimava lo spazio ma poi rientrava rapidamente a terra in un aeroporto alternato. Se voi notate bene questo significa potenzialmente decollare da Miami con 10 tonnellate di carico e in 28 minuti atterrare ad esempio vicino a Madrid cose che oggi da un punto di vista del trasporto aeronautico sembrano fantascienza ma che potrebbero in realtà nel prossimo futuro diventare una realtà operativa e tecnologica ben consolidata. Ci sono già delle iniziative ancora una volta il mondo americano fa un po' da apripista abbiamo Virgin Galactic che sta investendo con un approccio più orientato al turismo quindi ancora commerciale non una capacità operativa matura ma tutto sommato sta già creando le premesse perché questo trasporto suborbitale possa nei prossimi decenni aprire la porta ad un sistema di trasporto aerospaziale di nuova generazione. Qui vedete un'altra iniziativa è semplicemente una riproduzione artistica di un velivolo che si sta studiando in Europa una sorta di piccola navetta spaziale trasportata su un Airbus che ad un certo punto si stacca utilizzando il proprio propellente raggiunge la quota di 150 km e ancora qui gli americani X-Core vedete un tratto di volo suborbitale quindi non entrare nello spazio approssimarlo per poter utilizzare questo ramo di traiettoria per raggiungere in tempi estremamente più brevi punti lontani sulla superficie terrestre. Ancora una volta la tecnologia parla americana questa è SpaceX, vi ricordate il Dragon? Il Dragon è quella capsula che gli americani stanno sviluppando per riportare gli equipaggi a bordo della stazione. La stessa SpaceX sta sviluppando tecnologie per andare su Marte e il loro obiettivo è portare nei prossimi decenni un equipaggio su Marte. Stanno sviluppando una cosa incredibile che sta completamente stravolgendo il mercato dei lanciatori ovvero normalmente quando voi avete un missile che porta una capsula gli stadi di questo lanciatore vengono distrutti o cadono a terra e vengono recuperati o bruciano in atmosfera. Ebbene SpaceX ha sviluppato una tecnologia per far riatterrare mantenendone stabilità e il controllo il primo stadio di un lanciatore su una piattaforma marina per poterlo poi controllare e riutilizzare con conseguente abbattimento dei costi. Una scelta commerciale ma non solo. Pensate a dover entrare e ad arrivare su Marte. Bene, per poter arrivare su Marte attualmente si utilizza una tecnologia inflatable, cioè gli airbag. Avete visto gli airbag delle prime sonde che vanno su Marte? Bene, quella è una tecnologia in cui la velocità viene dissipata a rientro e poi assorbita all'urto. è una tecnologia che ha un limite che è stato raggiunto con l'ultima sonda che pesa circa una tonnellata e mezzo. Quindi per entrare su Marte avremo bisogno di una capacità di controllo aerodinamico, di stabilità e di retrorazzi che consentano un soft landing. Quindi tecnologia commerciale che però traguarda obiettivi di esplorazione futura. E ancora una volta il mondo aeronadico che si avvicina a quello spaziale. Qui siamo nel settore del volo ipersonico. Vi ricordate Antonio Ferri? Quello studioso, quell'ingegnere dell'aeronautica che negli anni 40 approfondì a guidonia le tematiche relative al volo ipersonico. Gli americani hanno da sempre investito moltissimo in questo settore. E qui vedete alcune iniziative recenti. L'una si chiama X37B ed è un piccolo shuttle in scala 1 a 4 sviluppato dall'aeronautica militare americana che può rimanere in orbita fino ad un anno. Pensate che lo shuttle aveva come limite 14 giorni. A bordo dello shuttle non si poteva rimanere più di due settimane. Questo oggetto riesce a rimanere senza equipaggio per ora per circa un anno. Dall'altra parte vedete l'X43. si chiama WaveRider ed è un sistema per lo sviluppo di tecnologia scramjet ipersonica. Vuol dire la possibilità di avere dei motori in grado di accelerare un aeroplano fino a Mach 10, Mach 15. Quindi come vedete tecnologie aeronautiche e tecnologie spaziali che si fondono tra di loro. Per quanto riguarda l'esplorazione le future mete quali potrebbero essere? Sicuramente la Luna. La Luna è molto vicina è sostanzialmente nel giardino di casa a 300.000 km poco più di un giorno di volo. Ma non un ritorno sulla Luna temporaneo veloce come furono le missioni Apollo ma un ritorno sulla Luna permanente con un insediamento vi ricordate quelle strutture inflatable che sono state recentemente installate a bordo della stazione? Bene, quelle sono strutture che potrebbero risultare idonei per creare degli habitat controllati e ospitare equipaggi permanentemente sulla superficie lunare. E poi la grande destinazione che è ancora Marte. Marte, ovviamente alla domanda andremo su Marte la risposta è sì prima o poi andremo su Marte. Il problema è che alla domanda quando riusciremo ad andare su Marte la risposta è decisamente più incerta. Per arrivare su Marte ad oggi risultano indispensabili delle tecnologie che ancora non sono disponibili. Ipotizzate pensate che per volare su Marte occorrono circa nove mesi. Durante questi nove mesi di volo voi non siete protetti dal campo geomagnetico terrestre il che significa che voi ricevete tutte le radiazioni cosmiche e le radiazioni provenienti dal Sole. Vuol dire che ad oggi la dose di radiazione che un equipaggio mandato in volo verso Marte accumulerebbe sarebbe letale. quindi per andare su Marte abbiamo bisogno di materiali innovativi per schermature abbiamo bisogno di sistemi di propulsione che consentano di ridurre i tempi di percorrenza abbiamo bisogno di contromisure mediche fisiologiche per compensare l'effetto dell'esposizione alle radiazioni che alle quali ovviamente l'equipaggio sarebbe esposto in questi lunghi mesi di navigazione il risultato finale da tutto questo non sarà più la bellezza della terra azzurra osservabile dalla terra come un tramonto ma bensì un lontano puntino luminoso perso da qualche parte sulla volta celeste marziana e quella che vedete qui è la prima immagine della terra ripresa dalla sonda Curiosity nel 2012 è trasmessa alla NASA quindi siamo partiti dall'uomo che osservava le stelle con sorprese e stupore alla prospettiva di arrivare da qui a qualche decennio su Marte in conclusione mancano solamente due slide un video per condividere con voi la bellezza della terra vista da bordo della stazione spaziale internazionale a Grazie a tutti. 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 Un'altra domanda. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.